Indossare i guanti inclusi nella confezione Estrarre il dispositivo dalla borsa Siediti sul bordo del sedile del water Solleva i vestiti, esponi l'area e allarga le cosce Tenere il dispositivo con la mano destra e sinistra. Inserire il dispositivo nell'apertura esterna della vagina. E spingilo delicatamente Spingi il dispositivo verso l'interno. Sentirai il bisogno di una maggiore pressione per far avanzare il dispositivo fino alla fine Assicurarsi che l'anello flessibile raggiunga l'estremità del dispositivo, in modo che l'anello flessibile entri in contatto con l'anello solido Utilizzare la mano sinistra per premere lo stantuffo fino all'estremità del dispositivo, quindi lasciarlo tornare nella posizione originale. Tenendo la mano destra premendo il dispositivo verso l'interno Estrarre delicatamente il dispositivo dalla vagina Guarda il punto rosso nella parte superiore del dispositivo. La scomparsa del punto rosso conferma che il processo di campionamento è stato completato con successo Rimetti il dispositivo nella borsa e consegnalo al laboratorio